ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda i saldi che ci sono in questo periodo io ci sono andata i primi giorni quindi ho preso alcune cose perché poi tutta quella calca che c'è dopo tutta quella confusione pazzesca immaginabile no assolutamente preferisco di no perché con la mascherina meno male sono andata struccata ma con la mascherina con la confusione tutto non si poteva stare quindi sono stata da alcott e ho preso alcune cosucce si alcune cosucce scontate ovviamente questo è il sacchettino vi piace il sacchettino di alcott cosa ho preso allora prima di tutto ci vuole il preambolo prima nel senso che sono andata perché ho buttato un sacco di magliette tutte le magliettine che io posseggo erano tutte con l'alone sotto per quanto riguarda un alone giallo quindi il sudore il profumo quello che sia quindi sono dovuta cioè siamo andate da alcott parli bene stefania si siamo andati da alcott e abbiamo preso alcune cosucce in tutto abbiamo pagato 53 euro e 76 abbiamo preso un po' di magliettine e tutto è scontato ovviamente scontate di un euro 2 euro e 96 comunque super giù un euro e 2 euro e 96 come diciamo come scontistica e niente avevo bisogno di alcune magliette perché avendo buttato un bel po' di cose quindi ne avevo veramente bisogno quindi vi faccio vedere cosa ho preso e soprattutto vi voglio far capire che a me determinate cose non piacciono e quindi non le acquisto allora per quanto riguarda stefania passione polo stefania passione polo ho preso le mie polo adorate a me piacciono tantissimo e io le utilizzavo le avevo acquistate anche della frutta di tante di tante marche ma adesso diciamo col fatto che sono dimagrita un pochettino vedete un po' le spalle sono più scacate qui si dice più più sdondate quindi mi servivano tantissimo alcune magliettine per utilizzarle vi faccio vedere la prima che è costata 5 euro e 95 ed è la xl di tutte le magliettine di tutte le polo troverete la xl perché mi piacciono abbastanza comode e queste sono le magliettine il tessuto è un cotone abbastanza leggero invece quelle che avevo prima erano un pochettino più pesanti e quindi mi piace tantissimo il fatto che ha il colletto le manichette così piccole non ha le maniche grandi tipo ci sono delle magliettine che hanno le maniche tipo qua sotto questa no è semplicissima normale ed è un po' corta davanti un pochettino più lunga dietro e ha tipo questi spacchetti laterali e a me piace tantissimo perché sono molto molto comode quindi ho preso una col fucsia poi ne ho preso una con il blu ovviamente poi una con l'azzurro che fa non lo prendi l'azzurro che mi piace una che passa in osservata con il giallo guardate qui che bel giallo cioè è bellissima come giallo è tutto bello veramente molto molto bella e per quanto riguarda le polo per adesso per adesso è tutto poi ovviamente vi ho detto che mi servivano alcune magliette e già stavo iniziando a prendere le magliette e già ho iniziato a prendere una maglietta ovviamente come l'ho presa come le prendo io le magliette bianche perché poi le abbino con i pantaloni colorati e tutto con Snoopy si chiama Snoopy? ora non mi ricordo se si chiama Snoopy comunque con questo qui ha le maniche corte e mi piacciono tantissimo così il collo è normale a giro collo ed è semplicissima ed è bianca con il pupazzetto con il giallo semplice è abbastanza lunga e mi piace e il cotone è ottimo e quindi questa poi ne ho presa un'altra forse con lo stesso personaggio sì con lo stesso personaggio però qui abbraccio il pupazzetto qui abbraccia pure il pupazzetto quindi l'ho presa di due colori sì l'ho presa di due colori con il rosa proprio per non fare tutte le magliettine bianche questa ha la stessa cosa la manica così e poi il pupazzetto che è rosa ed è molto molto carina anche questa poi dietro è semplicissima dietro è semplice poi mentre c'ero ovviamente ho preso anche una col giallo mi sta piacendo il giallo questa volta non lo so perché ma io adoro tantissimo il giallo e quindi ho voluto prendere questa ed è sempre delle Snoopy sì infatti è Snoopy sempre con la manica corta queste adesso le andrò a lavare tutte ed è molto molto carina ed è così quando a me piace tantissimo abbinarla ai pantaloni che io uso pantaloni o pantaloncini che siano mi piacciono tipo queste magliette un po colorate però con un piccolo disegno proprio per diciamo dare un outfit un pochettino più particolare più non dico stravagante però un outfit non serio da quarantenne va in poche parole e poi ho preso questa che è molto molto bella mi è piaciuto tantissimo il cotone mi piace tanto veramente tanto non c'erano altri altri modelli se non avrei preso alle altre c'era nera e sinceramente nera non la volevo ed è questa magliettina qui dove ci sono tutti i fenicotteri le summer wipe poi ci sono le palme gli occhiali comunque molto molto carina come maglietta ed è un cotone molto molto leggero anche questo ho preso una L ed è molto bella mi piace mi piace anche questa come maglietta queste magliette le ho prese scontate non erano sconti abbastanza forti però sinceramente ottimo come scontistica poi ho preso vediamo se ci arrivo ho preso un in questo negozio qui non so sant'angelo si chiama shop online pure c'è va bene ho preso un giubbottino un giubbottino maniche corte però tipo effetto pelle perché per il compiando di mio figlio ho un outfit un po' particolare lo volevo sdrammatizzare avevo visto questo ho preso questo poi non ho visto un altro ho preso un altro ancora il giubbottino che vi sto dicendo è questo è mezze maniche adesso ve lo faccio vedere mi piace tantissimo il modellino è questo tipo allora io di solito di norma il vestito è abbastanza elegante ma lo voglio sdrammatizzare e quindi volevo mettere tipo questo giubbottino al di sopra ve lo faccio vedere chiuso così credo che si veda meglio questo è costato sulle 39,99 però poi c'era uno sconto c'era uno sconto e quindi l'ho preso è senza colletto come vedete ha queste pinze qui ai lati ed è molto molto bello è quello corto e la manica è corta però la manica mi arriva qua cioè proprio tipo alla chiusura del braccio mi arriva qua invece a me piaceva che arrivasse tipo leggermente più corto comunque questo è il giubbottino è davvero molto molto bello la comodità è ottima e io ho preso la L poi siamo state la mia amica si doveva comprare le scarpe e quindi siamo entrati da prima donna nel manichino c'era questo giubbottino con le maniche corte mi è piaciuto tantissimo e quindi ho chiesto se c'era la misura casualità c'era la misura e quindi l'ho preso ed è quello che sicuramente utilizzerò per quel giorno ed è questo giubbottino qua ed è questo che è proprio quello che avevo intenzione di prendere cioè quello che io pensavo stesse bene con tutto l'outfit ed è così con il colletto e il bottoncino le maniche sono corte quindi proprio cortissime come piacciono a me ed è questo ed è una specie di gilet che sdrammatizza tantissimo l'outfit abbastanza elegante infatti poi metterò delle scarpe proprio particolari poi non so quando metterò questo video se per caso metto il video dopo il compleanno vi metterò una foto dell'outfit se ancora non l'ho fatto seguitemi su instagram perché lì metterò le foto del diciottesimo di mio figlio comunque questo è il giubbottino nella parte di dietro è così quindi sdrammatizza tantissimo l'outfit e quindi è una cosa che mi piace troppo e questo anche era scontato veniva 39,99 io l'ho pagato scontato non mi ricordo quanto comunque questo è il disegno del gilet gibbottino quello che sia e niente ragazzi che dirvi di più spero che i miei acquisti spero che i miei acquisti vi siano piaciuti ovviamente vi faccio la seconda parte perché sennò poi venne troppo lungo e non mi piace vi metto la seconda parte dei miei acquisti avrò comprato qualche maglietta non lo so niente ragazzi che dirvi di più aspetto i vostri commenti giù nell'info box e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao mua ciao 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 ciao